Al circolo hanno, c'è un rito speciale, solo in alcune occasioni veramente particolari, Daniele, in che cosa consiste? Allora, è successo, è la primissima volta, noi qui abbiamo questo Gran Pavese, che è un riconoscimento che il Canottieri Lazio, nell'arco di questi anni, ha sempre fatto per i canottieri. Quando arriva un titolo italiano, alzano questa serie di bandiere sul pennone della piscina del Canottieri Lazio. Per il tennis non è mai successo, quindi ti ripeto, sono molto fiero anche di questo, perché è la prima volta che succede e succede con me consigliere, abbiamo messo questo Gran Pavese per Fabrizio Gerardi. Cioè un riconoscimento del suo talizio per un titolo italiano che però nell'arco di, credo, 60, 70, 80 anni è sempre stato fatto solo per il canottaggio, solo per gli sport acquatici. Quest'anno siamo andati contro, diciamo, non contro, abbiamo affiancato la tradizione del canottaggio e abbiamo fatto mettere questo riconoscimento, questo Gran Pavese per il titolo italiano di Fabrizio Gerardi. Quindi per me doppia soddisfazione. Gerardi, ti informo che Maurizio già ti ha inserito nella copertina del signor tennis, quindi voglio dire anche questa è una bella soddisfazione, insieme a un giovanissimo che è Moroni, che ha vinto e si è confermato il campione d'Italia nella categoria Under 12, che voi conoscete. Giulio ha rivinto per il secondo anno, l'ho chiamato, gli ho fatto i complimenti, è il secondo anno che lui è campione d'Italia seconda categoria, talento smisurato. E c'è Fabrizio Gerardi. E c'è Fabrizio Gerardi. Allora ragazzi, una battutina sui programmi, hanno un'anticipazione? Sì, i programmi, ancora Mario Tanto Tennis, noi partiremo con febbraio-marzo con la Serie B, quindi la Serie B sarà sempre la prima squadra che schiererà sui campi il Canottieri Lazio. Ti ricordi bene, noi lo scorso anno, lo sai bene perché qui in casa ci hai sempre seguito tutte le domeniche, abbiamo sfiorato la Serie A2. Per il primo anno, dopo il 2005, che era l'anno che andammo in A2, siamo di nuovo andati a disputare i play-off e nello scontro andato a ritorno con la, non mi ricordo, una squadra del Nord, comunque con Musa e tanti altri giocatori di altissimo livello, non abbiamo avuto la meglio. Quindi siamo rimasti in Serie B come squadra sicuramente di prima fascia. Quindi il primo campionato che andremo a disputare sarà appunto la Serie B, da marzo. E poi noi ci stiamo concentrando molto sulle competizioni dei giovani, credo che Cristian iscriverà le solite 4-5 squadre da Under-12 ad Under-16, credo Fabrizio se non sbaglio, e poi schiereremo le solite 2 o 3 squadre per il settore veterani. Credo che quest'anno lasceremo perdere ormai l'Over 35 perché io e Scuderi passiamo per 40. Quindi sicuramente disputeremo un Over 40 e forse un Over 40 limitato 4-1, quarta categoria, che poi è il titolo che noi abbiamo vinto quest'anno con il Canotti a rilazio, con tutti i calcettari tipo Chico Leone, Minicucci, Andrea Arati e Daniele Violanti, l'accompagnati. Forse la variante quest'anno sarà, Fabrizio te lo potrà confermare, vorremmo far giocare proprio qualche socio, forse li faremo partire da una di tre o di due, questo vedremo con il comitato come riusciremo a metterci d'accordo, che competizione ci vorranno, molto probabilmente sarà la di tre, e faremo giocare dei soci, un gruppo di soci ultra quarattenni che Fabrizio sta iniziando ad allenare anche durante l'inverno. Il movimento tennistico cresce, questi giorni c'è stato veramente tanto affetto intorno a Fabrizio, Fabrizio dal momento in cui mi ha chiamato e aveva vinto il match con Poggi, questo ragazzo di Torino, in finale, è partito per lui un susseguirsi di telefonate da parte di tantissimi consiglieri, da Alfonso Rossi, da Antonio Buccioni, il presidente uscente, insomma questo fa sì che veramente il movimento tennistico è cresciuto, a me tutti durante la settimana mi chiedevano notizie di Fabrizio, e poi Mario tu sei venuto tante volte qui a fare dei servizi all'ora di pranzo, i campi sono pieni, i soci giocano doppi, singoli, sicuramente un movimento tennistico in grande espansione al Canottieri Lazio. Bene, io penso che abbiamo volentieri salutato la vittoria di Fabrizio Gherardi, salutato Daniele della Porta, che con grande entusiasmo ci parla sempre di tennis e questo mi fa veramente piacere. Se non abbiamo altre cose da dire, Daniele, vogliamo chiudere soltanto... Chiudiamo, io chiudo sempre con un solito grande abbraccio e saluto a te Maurizio, che continuate a girare con grandissima passione, seguite dall'evento nazionale all'evento provinciale, lo seguite con lo stesso entusiasmo, per me è veramente importante, per me, io spesso parlo di tennis con Fabrizio, con altri amici, per me il tennis è il mondo di EIS, sei tu e Maurizio, insomma, io sono legatissimo e vi voglio veramente bene. Il lavoro paga, grazie di queste belle parole, il lavoro paga, però ovviamente ci devi salutare la tua signora, congratulazioni, davvero congratulazioni, è inutile dire, non vi posso raccontare la festa di Daniele qui alla Lazio, perché non l'abbiamo registrato. Abbiamo fatto una grande festa, Mario è stato presente, io ho delle foto, qualche foto inedita meravigliosa, qualche foto meravigliosa, ho fatto un album, l'album l'ho fatto grazie alle foto del mio amico Mario, un bellissimo album e un bellissimo ricordo. Però lì noi abbiamo conosciuto la Lazio, abbiamo conosciuto sempre di più la Lazio, questa Lazio, così noi non la conoscevamo. Il mondo della Lazio. Noi non lo conoscevamo assolutamente, chissà quante altre sorprese, la Lazio è un circolo veramente sorprendente, e il presidente Alfonso Rossi sopra della vera guardava, quando voi entrava in acqua, dice questa è la Lazio. Questa è la Lazio che piace al presidente, la Lazio di atleti, di giovani che si sanno divertire. Quando si lotta, si lotta, ma quando c'è da divertirsi, si si diverte. E non c'è dubbio Mario. Un saluto dalla Lazio a voi tutti amici. Ciao, ciao, ciao Mario, ciao, grazie. Grazie a Fabrizio Gerardi. Maestro Cristian Cantacalli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio Mario. Ci sono due ragazzi che iniziano l'allenamento tra poco, ti chiami? Edoardo Maurizzi. Edoardo? Giordi Minicucci. Tu sei un nostro abbonato, Edoardo, quindi è un lettore del signor tennis. Cristian, questi ragazzi come vanno? Allora, abbiamo riniziato gli allenamenti, e qui abbiamo la squadra agonistica dell'Under 16, con Giordi ed Eddi, sono molto competitivi, e speriamo che quest'anno riescano ad andare bene nell'Under 16. Poi siamo partiti anche con la scuola 7, in complessivo abbiamo 60 bambini, tra cui Under 10, Under 12, 14, 16 e poi 18, e quindi speriamo di andare bene quest'anno, di impegnarci, e vediamo un po' questi ragazzi come andranno. Io li ho visti in campo, hanno voglia di far bene, eh? Non è così? Sì, sì, giusto così. Ti piace il tennis? Beh, sì, lo pratico da quando avevo 5-6 anni, quindi sì. Hai un maestro come Cristian Cantagalli, che ne sa tante. Sì, lo so, lo so. Cosa cerchi di prendere da lui? Beh, soprattutto la sua preparazione atletica, questo è quello che conta. Un po' di grinta, no? Eh, anche quello. Un po' di grinta. La grinta. Anche per quest'altro ragazzo qui. È vero. E tu invece con il tennis che rapporto hai? Ah, io ho giocato quando ho 9 anni, mi piace giocare a tennis, gioco pure a calcio. Ah, il maestro non gli piace tanto, però... Non mi piace giocare a calcio, allora voglio giocare a tennis. Sì, siamo un po' più concentrato nel tennis. Un grande talento, un grande talento, però si deve impegnare. Maestro, Gerardi, campione. Gerardi, Gerardi, il nostro maestro è un grande, un grande, ha vinto questi campionati, siamo contentissimi, onorati, ecco. Poi lavora insieme a me, è il secondo anno che lo abbiamo come maestro qui, l'ho allenato prima di partire, mi sono divertito, e quindi sono molto contento, sì, sì, anche per lui che era... ci teneva tantissimo, ecco. Ci rivediamo con i tuoi piccolissimi che sono simpatici, un gruppo molto bello, i bambini della Lazio sono veramente uno splendore vederli e c'è anche il tuo... Il mio figlio, sì, sì, il mio figlio. Come sta andando? Sta andando bene, viene, viene, il mercoledì una volta a settimana, così si diverte, cinque anni. Ciao a Cristian, arrivederci. E bocca al lupo ragazzi. Prepe.